Adesso è il momento della spa, ovviamente non poteva mancare il costume fatto da mia sorella Questo qua ha tutte le perle, le conchiglie ed è fatto all'uncinetto Ho appena finito registrare un nuovo video per Our Fit Hub Questo è il gambe glutei di aprile, la faccia e i capelli dicono tutto Volevo anche ricordarvi che sul sito di MyProtein c'è il 35% di sconto E potete trovare anche le booty band, infatti vendono questo set Ogni booty band ha un'intensità diversa, quindi c'è la light, la medium e quella invece bella dura Anche questa qua E queste qua in tela ve le consiglio più che altro per esercizi come glutei Quando magari facciamo anche le abduzioni Oppure ad esempio quando facciamo gli squat con la booty band Perché anche se comunque abbiamo poco peso sono un buon alleato per il nostro workout Questa ragazza, bellissima